Buongiorno ragazzi, 7.10 di mattina, siamo a zero passi, vedremo stasera quando arriviamo. Eccoci qua, ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Nuovo video relativamente, in realtà questo è un video che ho già registrato l'inverno scorso ma non avevo ancora portato sul canale. A tal proposito capirete bene il perché mi vedrete abbigliato come Maser che scala il K2. Perché non avevo mai portato questo video sul canale? Perché questo, ve lo dico già subito, non sarà un video dove vedrete un granché di catture o di azione. Vedrete però anche l'altra faccia della medaglia della pesca con artificiali praticata da terra. Una faccia della medaglia composta anche da insuccessi, da previsioni del meteo sbagliate, da tentativi, da fallimenti. Insomma, la vita che probabilmente ogni pescatore sportivo conosce. Perché però porto pochi contenuti di questo tipo? Perché obiettivamente una persona che guarda un video su YouTube vuole vedere dell'azione, vuole vedere delle catture ed è anche normale. Ma ci tenevo tuttavia anche a fare vedere questo tipo di contenuto. Questa era una giornata in cui, me lo ricordo bene, io e Marcos avevamo guardato diversi siti meteo il giorno prima e tutti i siti erano concordi nel dire che quel giorno ci sarebbe stata una forza del vento pari a circa 4-5 buffon. In realtà, come vedrete nelle immagini che adesso andrò a mostrarvi, la cosa non è andata esattamente così e ci siamo trovati una situazione completamente diversa nel giro di pochissimi minuti. Ho fatto pochi tagli nel video proprio per farvi vedere la velocità con la quale la situazione meteo è cambiata. Spero che nonostante non vediate un gran che di catture, questo sarà un video di vostro gradimento, vi invito tra l'altro ad iscrivervi al canale se non siete iscritti, magari anche un like, mi farebbe piacere. E con questo ragazzi io vi ringrazio e vi saluto, un abbraccio e al prossimo video! Grazie a tutti! 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 Ragazzuoli, inizio non dei migliori, ho slamato un bel pesce sul sardine slider, ho mangiato in caduta e quando mangiano in caduta sono a volte molto poche le possibilità di allamare correttamente un pesce, perché il pesce magari va solo lateralmente perché è infastidito, non aspira bene bene al jig, a shore, soprattutto a shore, che si usano solamente due assist in testa, se l'attacco non viene deciso, su specie soprattutto come il dentici, quale probabilmente era, magari si allama le scaglie laterali e una volta che si mette in tensione il pesce si slama. Grazie a tutti! attività i pesci perché per adesso sono un po' fermi e sicuramente qualche alletterato qualche pesce in caccia c'è perché le sardine abbiamo una nuvoletta di sardine qua davanti che sono tutte spaventate quindi sicuramente qualche alletterato è in zona e non solo forse non ci sono solo alletterati ci sono altri pesci vediamo se con il vento giusto quello che dovrebbe arrivare nelle prossime nella prossima ora speriamo il fatto che abbiamo poche ore di luce e poche ore d'attività in ore centrali si concentra l'attività quindi dobbiamo sperare che il vento ci faccia un favore si rinforzi velocemente nella prossima ora crociamo le dita yes albacor Come on Yes Very fast Very fast, yes, I can release it Ready Man mano che passano i minuti Sta incominciando a salire un pochino di ondina Poco ancora, troppo poco Ci serve ancora un altro mezzo metro Per produrre un po' di schiuma Però vedete Comincio, comincio un pochino Ok ragazzi Sta arrivando il vento tanto atteso Non è ancora forte Ma sono le prime abisaglie Poi più là vediamo delle Grosse creste bianche Probabilmente arriveranno tra tre quarti d'ora un'ora Però adesso ci sono Le prime raffiche E vediamo se cambia qualcosa Noi ci speriamo davvero tanto Ora peschiamo e vediamo se i pesci Sono della stessa idea E vediamo se i pesci E vediamo se i pesci E vediamo se i pesci E no more long cast Ok Eccolo che arriva Ecco che arriva Il vento che Speravamo Non è ancora 15 minuti Bro Is ready here Sì qua sta salendo Sarà Già un tre Barra quattro Bofor E dietro sicuramente ci sono Crest da cinque E dietro sicuramente ci sono 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 Grazie a tutti. 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 Adesso ci tocca fare un'altra ora buona per risalire e poi chissà di trovare un altro spot rischiabile. Grazie a tutti. Un metro disastro. Abbiamo abbiamo speso quasi due ore di cammino tra andata e ritorno per andare nello spot che abbiamo scelto. sperando che il vento. sarebbe rimasto, ma è statoato sarebbe rimasto sarebbe rimasto qui, sull'altro sarà più vastoimo, comunque era impactività, quindi si sono dovutti andare via. centrali siamo dovuti scappare perché all'una e mezza e due è diventato impescabile abbiamo provato questo posto questo spot che era già un po tardi adesso saranno le quattro e mezza 5 e cos'è sto abbiamo provato le quattro e mezza 5 attività zero tutto sparito ci si gioca una chance di toccare qualche pesce nelle ore centrali in questo esatto momento magari fa un mese cambierà di nuovo tutto ma in questo esatto momento abbiamo capito che la finestra d'attività dei pesci è veramente corta e niente e la giornata è andata così uno strike di un pesce molto bello slamato piccolo letterato rilasciato due ore di cammino parecchia fatica spesa soldi di benzina aspettative insomma grandi grandi cose ma questo per far capire a tanti che veramente non c'è niente di facile bisogna spuntare sangue e le giornate così capitano a noi adesso è già la praticamente la terza giornata così che non riusciamo o non riusciamo a pescare per quelle condizioni proprio il pesce negativo perché le condizioni sono sbagliate nella pesca con gli artificiali ci vuole tutto ci vogliono le giuste condizioni il giusto momento la giusta scelta dello spot tanti fattori che alla fine portano risultato ma i cappotti sono tanti sono ovunque credetemi certo un mare più ricco dà molte più possibilità ma se non ci sono le condizioni ma finito due non c'è niente da fare si cappotta sotto ovunque infatti oggi portiamo a casa un bel cappotto però ragazzi così volevo fare questo video perché appunto mostrare un po di di com'è la realtà e la realtà è questa e ho mangiato vediamo un po quanti passi abbiamo fatto oggi 20.219 non male e adesso andiamo a nonna ciao ragazzi